Astolfo, devo parlarti. Allora, che dovevi dirmi? Dobbiamo lasciarci. Oh, ci ha lasciato. Mandala a quel paese! Ma no, rabbia, sicuramente avrà i suoi motivi. Noi potremmo trarne conclusioni e maturare. Gioia, ma sei scema? Ci ha lasciati? Come fai a vedere la situazione positiva? Dai, rabbia, pensa. Si chiude una porta, si apre un portone. E se ha un altro? Sicuramente sarà così. Ragazzi, ragazzi, dai! Vedrete che andrà tutto per il meglio. Disgusto, tu che ne pensi? Ma come si permette? E vabbè, dai, a ognuno ha i suoi gusti. Forse non troveremo mai più un'altra femmina di sesso femminile. Ma certo che la troveremo, dai! Vedremo come va, adesso ne parliamo. Ma perché? Ma parliamone, no? Va bene, parliamone. Vedete? Adesso si aggiusterà tutto. E se non si aggiusta spaccheremo tutto? E se spacchiamo qualcosa di valore? Meglio! Ragazzi, ragazzi, calma! Ha detto che ne parliamo! Magari non ci lascia! Siete positivi, ora glielo chiedo. Ti ascolto. Io non ti amo più. Vai, una testata sui denti! E io mi dissocio, signor YouTube. Rimarremo per sempre soli! Non mi ami più! No, ti vedo... Ti vedo... Mi vedi bello? No, ti vedo come un amico! Si vede come un amico... Ma io ti rompo il teschio! No, rabbia! Dovremmo essere felici! Abbiamo guadagnato un'amica! Cosa ne pensi tu, paura? Temo che non inzupperemo mai più il biscotto! Inzuppare... Ragazzi, sono sicura che c'è un malinteso! Ok, posso capire che vuoi la tua indipendenza. Ma no, in realtà... Vuoi vedere che ho un altro? Ma figurati! Ho un altro! E se l'altro è più bello? Vabbè, ma noi siamo imparagonabili! Ed è più bello di te! Ma magari anche più intelligente! Ma figurati! È più intelligente! Ma magari anche più bravo a letto! No, impossibile! Però... Devo concederti che tu a letto... Io cosa? Fai cacare! Lui invece è un mastino ingrifato! Paura, ascoltami! Ti stai un po' zitta? Gioia! Sì? Ma io suggerisco di staccarle le tibie e suonargliele sui denti tipo xilofono! Oh, ho un'idea! Ascoltate! Ora diremo questo! Va bene... In ogni caso... Sono felice di aver trascorso del tempo con te! Ti ho amata tanto! Io no! Mi hai sempre fatto schifo! Ero con te solo per pietà! Da qua! Fa parlare me! Ma brutta ingrata di merda! Ma come ti permette di dire queste cose? Adesso io... E tu mi lasci così! Dove farò adesso? Dobbiamo essere positivi! Ci penso io! Ma sono contento! Perché la vita va avanti! Io, io! E se direi a tutti che faccio schifo! Non parlo, ti prego! Ho paura! Ma che cavolo hai? Adesso ascoltami bene! Io non ti permetto! Volevo dirti, tesoro, che io... E che sono davvero grato di averti conosciuta! Per favore, non diri a nessuno che io... E se ti azzardi a parlare di nuovo di me... E moriremo tutti! Ti penserò di notte! E la prossima volta che mi contatterai... Io ti abbraccerò tantissimo... Mentre muoio! Mi stai spaventando a sto... E se non ce la faccio! E se non ce la faccio! Mi scriverò a danza classica! E ma se non ciò a ballare cosa fa? È tutta colpa tua! Ma che schifo! Sono scarpe nuove! Grazie per aver visto il video! In particolar modo gli abbonati... E il livello 2! Che andiamo sempre a salutare! Parlo di Roberto Vicalvi! Daniele Cuomo! Massimiliano Sonzogno! Francesco Di Pasquale! Stefano Bologna! Matteo Tondini! Dimitri Manzambi! Blit Thunder! Cristina Marello! Vincenzo degli Abruzzi! Sì! Per favore non fatemi del male!